Elisabetta Di Benedetto non ha alcuna intenzione di arrendersi, anzi, dopo gli appelli sui social e quello raccolto anche dai nostri microfoni, adesso ha deciso di prendere carta e penna e di scrivere al sindaco di Arezzo, Alessandro Ghinelli. I suoi animali, infatti un cane e quattro gatti, dallo scorso giugno sono chiusi in gabbia tra canile di Arezzo e un gattile di Firenze, perché sono stati nella stessa casa con il micio morto tre mesi fa di Lissavirus, una forma molto particolare di rabbia che, come da protocollo, prevede poi per gli animali vicini una quarantena di sei mesi. Il primo cittadino di Arezzo tramite social nelle ultime ore aveva dichiarato di stare aspettando anche lui risposte dall'ASL ed adesso Elisabetta ha deciso di replicare con una lettera per chiedere chiarezza e tempestività nella risoluzione del caso. Secondo la proprietaria degli animali, infatti, l'ultima parola in materia sanitaria spetterebbe proprio al sindaco, che quindi potrebbe decidere in autonomia di restituire alla famiglia la cagnolina Birba e la gatta Olivia, assieme ai suoi tre cuccioli nati pochi giorni prima del sequestro. La richiesta della donna è sempre quella che i suoi amici a quattro zampe le vengano restituiti per completare così la quarantena a casa. Gli animali non sarebbero stati infatti morsi dalla gattina morta, né tanto meno avrebbero mostrato alcun sintomo in questi tre mesi di quarantena. Sul caso, infine, è intervenuta anche la LAV per chiedere al governatore della Toscana, Enrico Rossi, di attivarsi nei confronti dell'ASL competente e di fare tutto ciò che è in suo potere affinché gli animali possano trascorrere il resto della lunga quarantena in sicurezza nella loro famiglia.